L'amministrazione lucchese non rinuncia ma anzi rilancia la sua corsa alla gestione autonoma del servizio idrico affidandosi a una nuova strategia. Sì perché dopo il parere negativo del professor Tronca che a inizio marzo aveva scritto nero su bianco la non prorogabilità dal punto di vista normativo della gestione GEAL adesso Palazzo Orsetti punta tutto sull'analisi tecnico ambientale iniziale redatta dallo studio associato Geologia Ambiente Cani Paroli. Il testo è stato esaminato oggi dalla Commissione Speciale per il Servizio Idrico e dice chiaramente che in base al codice dell'ambiente sussistono validi motivi ambientali, tecnici ed economici perché Lucca resti autonoma. Secondo lo studio infatti il pregio delle fonti lucchesi, la presenza di sorgenti in aree protette e l'efficienza di GEAL sarebbero ragioni valide per chiedere all'autorità idrica toscana di preservare l'indipendenza di Lucca. Si tratta di una strada molto stretta spiegano dall'amministrazione percorribile solo trasformando GEAL in un'azienda speciale controllata al 100% dal municipio. Una GEAL 2.0 approvata fin da subito anche dall'opposizione di centrosinistra che questa mattina ha sollecitato il sindaco ad accelerare il percorso. Abbiamo un anno e mezzo di tempo, si può fare, dicono da Palazzo Orsetti, ribattendo che questo ITER avrebbe dovuto essere avviato dalla precedente amministrazione di centrosinistra entro i termini indicati dalla legge. Il verdetto, una volta conclusi gli approfondimenti del caso, spetterà l'autorità idrica toscana e dovrà arrivare entro il 31 dicembre 2025.